Gli anziani si trovano costretti a fare tutto il giro del parcheggio per poter entrare. È una delle tante segnalazioni giunte in questi mesi alla nostra redazione. Infatti, molti lamentavano che il cancello laterale del cimitero centrale di Fano fosse sempre chiuso, creando di conseguenza non pochi problemi sia a chi ha un'età avanzata, sia a persone con difficoltà motorie. Poi, come spiegato tempo fa dall'assessore competente Marina Barnesi, il provvedimento si era reso necessario per contrastare furti continui, tra cui la sottrazione di oggetti sacri e diversi atti di vandalismo. Poi, venerdì scorso, durante il programma di Fano TV Primo Cittadino, il sindaco Massimo Seri aveva annunciato la buona notizia. Da lunedì il cancello dovrebbe essere aperto. Ho avuto oggi nulla osta dal dirigente del settore tecnico, che mi ha dato la garanzia dell'idoneità per l'apertura di quel cancello. Lo dico con soddisfazione perché tante persone, anche anziane, che ho incontrato per la città, tutti mi chiedevano questa riapertura. E così è stato, perché da ieri il cancello è stato aperto. Inoltre, il primo cittadino, sempre durante l'incontro in diretta TV, aveva comunicato la richiesta avvenuta di un preventivo per poter sistemare il cancello laterale del cimitero di Rosciano, un altro problema che provoca molti disagi ai cittadini, ma sul quale l'amministrazione sta lavorando per ripristinare la situazione quanto prima.